Per il sottoporto è un valenzio, ne lo diamo che ha freddo? Grazie! Signora, ha chiamato tanto tempo fa per il pan? Sì, è una mancola. La mia mancola, la mia mancola è la mia mancola. Quanti mancola sono? Ah, la mia mancola è la mia mancola. Ora, un'altra, un'altra. Un'altra, un'altra. Ok? Sì, sì. Farai, farai. Farai. Non c'è alla mia mancola la mia mancola. Spesso non traccio... Devec'è più. Se dovessimo questo... ...e la loro... ...e la mancola? Mmmmm... Ok, ma è golden? Sì. Questa la mancola... ..moviste con un certo? ... ... ... ... Vediamo che spesa come va su mamma? No, no, no No, no, no Certo, non puoi vedere Ok, mai con la puntata Tavolo 12 e 3 del 2 Sì, scusa Come ti chiami, Gioia? Robertina, scusami Grazie It's ok, till now Yes Where are you from? From Spain Spain, ok Are you here for each year? The World Cup of... You don't know? No, yes, yes, I know, but I... You are here on vacation Nice Nice Me lo rinvide il sac à poche Siamo Poi Pavolo 12 e 7 Poi Pavolo 12 e 7 Poi Tavolo 12 e 5 Poi Ora Poi Il campo è buono A me di somma No Poi 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi di Antonio che viene qua perché già sta lavorando male. Antonio le bevande me le devi dettare perché poi due potre taglieri e loro, come mi diceva il capo, nonché Gaetano, stanno mangiando senza bevande. Tu già stai lavorando male. E quando Cristiano vuoi fare sopra? E non so chi ne vai, ma c'è da 10 da posto? E' da 5. 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 E' da 25 cento e senza belano. C'è uno fossato taglieri. Stai mangiando? No, a 20 a 15. Ah, in fin fickiano. In fin 돌� Doyce. E' daamba già da spisto, sono riuscito io e sono arrivata in tagliermi a vedere. Sì, signora, quante viene serve? Uno, due, tre, quante viene serve? Panini per tutti, vero? Come diciamo che questo panino... Cosa? Cosa? Per chi? Antonio, quindi il 25 ha un bicchiere di vino rosso o un bicchiere? Adesso me l'aveva detto. Aiuta Antonio perché già lo vedo, non so. Michael, tu aiuti me, vieni qua perché già sta lavorando male, non mi piace. Allora, spieghiamo alla signora del 25 che già sta mangiando. Questo ci ha portato al tavolo 5 perché il bicchiere a me non aveva un problema. Allora, invece che sto fare al tavolo 9 è una cosa bella, non sono abbastanza piccola. Aveva un luogo che era, non si mette la moto del lavericai in Arley. Ci hannoino il bicchiere a me, non c'era. In un caso del bicchiere a me, non c'era vero. Ok, che c'è da, hai scritto? ok invece tu vai al tavolo 1 una naturale piccola due naturali piccole spagnolo mira ok questo è per te grazie mi chiamano Neroni tu conosci Neroni? no nero 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 nel momento in cui arrivano questi ospiti che vogliono farsi anche i pari lini o vogliono mettere l'avventura, la nipolle o qualcosa a me l'importante è che non prima, ma noi li facciamo operare senza problemi no, no, no si, si, io metto mio padre là, che lui è un marshmallow e lui darà magari io, dato che sono questa cosa quest'oggi ci possiamo fare un topodotto per noi ancora meglio quindi farò degli grambiolini giù che si getta faremo una cosa simpatica si, no, dentro, fuori, noi ci attrezziamo si, 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 si no, no si, si, si no, grazie a te allora quando vuoi sono disposto ok si, me lo ricordo, si, si io poi man mano che tu parli con piacere si, si si e allora mi devi portare il tuo caffè in metro con piacere con piacere con piacere a te tardi, ciao ciao con piacere E' un po' di pane per i signori di tagliare per due e dei ragazzi di tagliare per tre. C'è una tricotta grande. 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 Mille grazie. C'è una tricotta grande. C'è una tricotta grande. C'è una tricotta grande. C'è una tricotta grande.